Mi piacerebbe che il termine fratellanza non sia un sostantivo che debba dormire in un vocabolario, oppure letto e dimenticato. Fratellanza, attivarsi affinché ci sia un bel senso della fratellanza. Più bello sentirsi fratelli che non hanno nemici o rivali o queste cose stupide che sicuramente una cultura sbagliata riesce a seminare. Se riusciamo a diventare normali sotto quell'aspetto è già un bel risultato. E dimentichiamoci sempre di essere… stavolta spesso gli esseri umani si sente un piccolo Dio, l'essere umano si sente uno che può fare, può distruggere, può… niente. Dimentichiamoci di queste prepotenze. La vita è breve e questa brevità di vita godiamocela con tutti quegli ingredienti che il cristianesimo ha ben lanciato, ha ben messo in evidenza ormai da duemila anni. E poi ovviamente senza dimenticare il senso sacrosanto della fraternità, il senso sacrosanto della pace, della libertà, il senso sacrosanto dell'amore tra gli umani.